Con la Pasqua e i ponti del 25 aprile alle porte è ritornato il ricorrente problema del caro voli soprattutto nelle isole maggiori italiane. Per contrastare questo problema la regione Sicilia ha stanziato 33 milioni di euro e i residenti pagheranno i loro voli verso tutta l'Italia tra il 25% e il 50% in meno del prezzo fissato dalle compagnie aeree. In Sardegna la continuità territoriale con i prezzi agevolati per i residenti è valida solo per le rote da e verso Milano, Linate, Roma, Fiumicino e i costi da capogiro arrivano infatti dagli altri scali italiani. La regione Sardegna attraverso una delibera approvata lo scorso 14 febbraio ha attivato un servizio sperimentale per tutto il 2024 che consiste nel riconoscimento di un contributo economico che parte da un minimo di 25 euro a tratta fino ad un massimo di 75 euro a tratta. Possono accedere al contributo i cittadini residenti in Sardegna fino al compimento del 26esimo anno di età e tutti i residenti a partire dal compimento del 65esimo anno di età. I residenti che appartengono alle categorie beneficiarie possono chiedere il rimborso attraverso la piattaforma Sardegna Trasporti, un servizio non valido per i voli in continuità territoriale ma riferito alle rotte di collegamento tra aeroporti situati in Sardegna e tutti gli aeroporti situati all'interno dello spazio economico europeo.